Lunghi periodi di siccità alternati a bombe d'acqua improvvise che provocano allagamenti, frane, esondazioni. E' quanto sta accadendo ormai da qualche anno anche nel nostro territorio con tutti i disastri che il cambiamento climatico sta provocando. L'acqua comunque è un bene prezioso che deve essere gestito in maniera intelligente. E' una risorsa ambientale, alimenta e tutela il paesaggio ed è un bene indispensabile sia come elemento umano che come elemento per tutelare la nostra igiene. Ma l'acqua incomincia a scasseggiare. Come fare dunque? C'è chi parla di desanerizzazione dell'acqua marina, chi di erigere dighe o perforare nuovi pozzi. Una proposta interessante che concilia il dato economico con quello ambientale giunge da Colli al Metauro. Siamo qui sulle rive del fiume Metauro per parlare di un problema incombente che si presenta ormai da diverso tempo. Quello della siccità e del prilievo dell'acqua potabile dal fiume Metauro. Il fiume Metauro è uno dei più importanti fiumi della regione Mar che ha una portata considerevole. Ebbene ci sono diverse proposte per utilizzare in maniera oculata questa grande risorsa. Una delle proposte viene fatta dal gruppo Acqua, un gruppo che si è costituito ad Urbani e di cui rappresentante è l'ingegnere Federico Baldetti. Federico, qual è la vostra proposta? La proposta è quella di sfruttare le grandi vie di acqua dolce che ci sono nella nostra provincia. Il Metauro, siamo qui alla Foce, è una via d'acqua dolce importantissima. La piena qui a Fano, per esempio, le grandi piene portano anche mille metri cubi di acqua al secondo. Quindi è proprio in queste zone che noi dobbiamo prendere quest'acqua durante le piene, che è acqua fra l'altro di buona qualità e portarla su dei laghi laterali al fiume che siano distanti naturalmente e fuori di ogni pericolo. Quindi è la creazione di una grande rete di laghi, a partire dalle zone costiere fino alle nostre zone interne, dove si possa accumulare acqua buona durante le piene. Questo vorrebbe dire che bisogna limitare i prelevamenti che vengono fatti dal sottosuolo? Beh, è conseguente, perché se noi riempiamo una serie di laghi, anche progressivamente in questi anni, avremo la possibilità di ridurre tutti i prelievi del sottosuolo. Quindi sia pozzi profondi che privati potranno essere nel tempo, piano piano, diciamo, dismessi, perché di acqua ne abbiamo più che a sufficienza. Dobbiamo imparare ad accumulare. A vostro parere, per razionalizzare lo sfruttamento della risorsa idrica, gli argini artificiali sono un problema? Gli argini artificiali sono un ostacolo al fiume. I fiumi non vanno toccati, va seguita la natura. Spesso però i residenti nelle acque vicinali chiedono di rafforzare gli argini e di togliere soprattutto i rami, gli alberi che cadono nei fiumi, perché ostacolano le ondate di piena. Se si creano delle situazioni di questo genere, dell'accumulo di rami che possono durante una bomba d'acqua portarci dei problemi, vanno eliminate, però non vanno fatti i argini, va lasciato il corso sinuoso. C'è anche un altro problema, quello della reazione tra il fiume Metauro e la pratica dell'agricoltura nel nostro territorio. Diciamo che il suolo non ha più la capacità di trattenere l'acqua. In poche parole, un suolo fertile, ricco, riesce ad accumulare grandi quantità di acqua e la capacità del suolo la si misura nella percentuale di sostanza organica presente nel terreno. Se si riuscisse a riportare il suolo ad una concentrazione di materiale organico sufficiente, già avremmo i nostri laghi, perché ad esempio arrivare a 4-5% di materia organica significa avere un lago di 20.000 metri cubi di acqua.